Occhio a movimento dei soliti noti, colpo di testa, respinta Bonucci, palla sulla linea, non è entrata, ancora ad un passo ma mai così vicino, dal gol dell'1-0, il palo e la Gone Light Technology che certifica la bontà della scelta di guida, palla che non supera tutta la linea bianca.